L'agricoltura è un settore nevralgico dell'economia pugliese e in particolar modo di quella tarantina, di quella ionica. Ne parliamo con Antonio Scalera, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia domani, fitto presidente. Il comparto agricolo è un comparto non solo nevralgico ma anche strategico per la crescita sociale, economica e anche culturale del nostro territorio. È un comparto che è stato totalmente abbandonato da più di dieci anni, è un comparto che grida vendetta. Noi non possiamo in una logica di agricoltura, in una logica di innovazione non innovare il comparto agricolo. Noi dobbiamo pensare al passaggio tra le vecchie e le nuove generazioni, dobbiamo cominciare a parlare di nuove cultivar, dobbiamo cominciare in agricoltura, dobbiamo cominciare a parlare di risorse che dobbiamo richiedere per il comparto, risorse che vanno intese per lo sviluppo del comparto, nel senso di innovazione, nel senso di rivedere un po' tutta la politica agricola. Noi in agricoltura stiamo all'anno zero. Il comparto agricolo è l'unico comparto pugliese che non ha il PSR e poi non voglio parlare dell'axilella di come è stata gestita perché è sotto gli occhi di tutti. Quindi io non voglio essere o cavalcare tigri che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo all'anno zero in agricoltura. Bisogna ripartire da zero, bisogna dare al comparto quello che gli spetta, bisogna riprendere le nostre risorse che sono in Europa e che sono andate perse e riportarle su questo territorio. Perché se il comparto agricolo comincia a camminare sulle proprie gambe e a camminare bene, io credo che l'intera provincia di Taranto potrà avere delle ricadute sullo stesso territorio economiche che oggi non solo non abbiamo ma che vengono scippate. Devo spendere un'altra parola per quanto riguarda il comparto agricolo. Oggi se esiste l'agricoltura è grazie agli agricoltori, a chi opera nel settore, che non solo sono degli eroi, sono più di eroi per come sono stati trattati. E dico anche che noi come agricoltori siamo bravi a produrre. Produciamo molto bene, però il problema è la commercializzazione dei nostri prodotti. L'interessamento di chi oggi si propone ad essere consigliere regionale, non solo a fare il PSR, a gestire bene la scsilella, a dare le risorse per l'innovazione, ma deve anche interessarsi di commercializzazione del prodotto agricolo. Perché noi produciamo bene ma vendiamo male.